Tra le iniziative che vengono messe in piedi dall'amministrazione comunale e dalle altre associazioni per valorizzare la nostra città durante il periodo natalizio ci sono anche gli spazi espositivi, gli spazi culturali della nostra città. Tutti gli spazi culturali della nostra città in questo momento presentano delle mostre e quindi la città possiamo dire che ha un complemento al di là di attività ludiche e di intrattenimento anche di attività culturali in modo da fornire un'offerta completa e dettagliata anche al visitatore che arriva da fuori oppure anche ai cittadini che vorranno in queste giornate di festività trascorrere qualche ora di svago ma anche approfondire delle conoscenze. Ed ecco nel dettaglio le mostre attualmente in corso a Pordenone negli spazi comunali. La Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Pizzinato ospita la doppia mostra dedicata a Virgilio Guidi e Luigi Vettori, un percorso che si arricchisce con l'iniziativa Famiglia e Musei. Al via proprio domenica 21 dicembre alle ore 16 con il laboratorio espressivo Una Nuova Casa per Pulce. I laboratori Famiglia e Musei verranno realizzati a partire dal 27 dicembre anche alla Galleria Bertoia che ospita la mostra fotografica Ashes Ceneri di Pierpaolo Mittica. Affascina grandi e piccoli l'esposizione Le macchine di Leonardo da Vinci negli spazi espositivi di Via Bertossi. Nel convento di San Francesco dominano i ritratti nella mente di Guardatemi in faccia di Giordano Floreancic. In biblioteca invece si possono trovare i lavori grafici di Mario Micossi per The New Yorker. Infine i musei. Il Museo Civico d'Arte approfondisce alcuni aspetti di Antonio De Sacchis con il linguaggio moderno di Stefano Ius. Il Museo Civico di Storia Naturale ospita la mostra fotografica La Casa in Riva al Mare con gli scatti realizzati dai detenuti. Grazie a tutti.